Musica Ecco le previsioni meteo per mercoledì 29 agosto, aggiornate alle 14.30 del 28.00. Ancora per domani l'influsso di un'area anticiclonica manterrà condizioni di tempo prevalentemente soleggiato sulla regione Piemonte e in particolare sulla provincia di Cuneo. Domani il cielo sarà poco nuvoloso con il transito di velature al mattino e la formazione di cumuli sui rilievi alpini nelle ore pomeridiane. In serata l'aumento della nuvolosità potrà generare deboli errovesci sparsi sulle aree alpine. E vediamo le temperature, saranno la minima 16 e la massima 32. Grazie per l'attenzione a domani. Grazie per l'attenzione a domani.